Puoi sorridere in questo momento? La Lega sorride. BLR è debole? Debole, è un momento debole, sì, però rilasceremo dalle ceneri. Come l'Araba Fenice? Speriamo, speriamo. Triste? Molto triste, molto triste. No, mi spiace. Ripeto, mi spiace dal lato umano per il sindaco, perché è un'uscita di scena che nessuno spiegava, nessuno voleva, ecco, non è successo, vedremo.